Ben ritrovati su OneTvWeb e il nostro format dedicato alla musica dura, ovvero Rockopages. In questa nuova puntata il rock andrà di pari passo con il cinema, come The Who, Led Zeppelin, SDC, Deep Purple, Bowie e molti altri. Per chi non l'avesse mai visto bisogna correre ai ripari subito. Resta davvero un film divertente ed imperdibile.